Come chiudere una vendita davvero professionista? Guarda questo video. Sono Paolo Gagliano e questo è il video numero 30, i segreti degli agenti immobiliari di successo. Oggi parliamo di come sviluppare le abilità per chiudere una vendita davvero professionista. In fondo chiudere una trattativa dovrebbe essere la parte più facile di tutto il ciclo di vendita. Arrivare oggi a discutere di un incarico di vendita o di una proposta vuol dire che abbiamo superato una serie di traguardi. Se abbiamo fatto tutto il lavoro per bene la parte finale, la chiusura, è la parte più facile. Ecco quindi quali sono le abilità dall'inizio alla chiusura di una vendita. Ne ho messe 5, le mie 5 che penso che sono le più importanti. La prima, conosci bene il cliente. Vendere vuol dire anche aiutare. Due, sii consapevole delle obiezioni. Chi si prepara bene è a metà dell'opera. Tre, ricorda di parlare sempre con chi prende le decisioni. Stai parlando con la persona giusta? Quattro, non tutti i clienti possono essere tuoi. Sappi quando mollare la presa. Cinque, per me è la più importante. Lavora in squadra. L'individuo non può mai vincere un team. C'è sempre qualcosa da imparare in una vendita. Che sia andata bene o purtroppo no. Se vuoi qualche informazione in più sulle abilità che ho elencato prima, sai dove contattarmi. Ci vediamo settimana prossima per un altro contenuto, i segreti degli agenti immobiliari di successo.